Invece abbiamo con noi stamattina appunto e voltiamo pagina e quindi parliamo di medicina e delle nuove frontiere della ricerca perché il prossimo 13 marzo si terrà uno speciale open day sulla sclerosi multipla quindi organizzato appunto sotto legge della fondazione onda osservatore nazionale sulla salute della donna e di genere diamo quindi il benvenuto alla professoressa Roberta Lanzillo professore associato di neurologia centro sclerosi multipla dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II e benvenuta questa mattina a Mattina Live. Grazie buongiorno e buongiorno a tutti. Ecco a margine della settimana mondiale del cervello si colloca questo speciale evento direi che ha come focus principale la sclerosi multipla. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Ma è un'iniziativa innanzitutto per sensibilizzare le donne con sclerosi multipla ad affrontare anche l'aspetto dei disturbi cognitivi legati a questa malattia e quindi offrire la possibilità di un consulto in questo senso, un approfondimento neuropsicologico e all'atare anche un percorso per quelle donne che hanno difficoltà procreative di fertilità relativamente all'aspetto sclerosi multipla un altro aspetto di cui ci occupiamo anche con la ginecologia, con il professor Alvigi e i suoi collaboratori. Quindi oltre a sensibilizzare i soggetti interessati è fondamentale anche sostenere e aiutare i caregiver, le famiglie che ruotano intorno a questa malattia. Quali sono le stime in Campania dei soggetti affetti da questa patologia? È una malattia non rara, è la malattia autoimmune neurologica più impattante, la seconda causa di disabilità nel giovane adulto dopo i traumi. E in Campania abbiamo almeno 12.000 persone affette da questa patologia, 140.000 in Italia. Di queste due o tre volte tanto sono le donne rispetto agli uomini, quindi una malattia con una forte componente femminile di genere. E come diceva ha un impatto su tutta la famiglia, sul caregiver e sulla società, perché le donne come sappiamo oggi è una giornata fuori speciale, in questo senso sono il fulcro della famiglia in un ruolo sociale molto importante. Quindi è una patologia che sicuramente colpendo le donne colpisce la coppia, colpisce la famiglia e colpisce tutto l'ambito sociale in cui queste donne insistono. Ecco, ci sono proprio aspetti cognitivi che vengono indeboliti e anche proprio inficiati da questa malattia. Esistono dei segnali però d'allarme che possono in qualche modo anche farci comprendere qualche elemento in più sulla patologia? Sì, la componente cognitiva è stata scotomizzata per molti anni. Finalmente è stata ripresa diciamo come concetto importante nel corso di questa patologia perché il disturbo cognitivo è un disturbo un po' subliminare, un po' nascosto, uno dei cosiddetti sintomi invisibili della malattia. E fanno sì che le persone che ne soffrono si sentano anche incompresi da questo punto di vista. Quindi è importante andarli a sondare perché sono disturbi appunto poco percettibili dall'esterno, di concentrazione, di attenzione, di memoria che però possono avere un grosso impatto per esempio sul lavoro o sulle abilità curriculari perché a volte parliamo di bambini o adolescenti con questa patologia e un impatto appunto che se non viene sottolineato, se non emerge potrebbe essere poco preso in carico e quindi evolvere senza la possibilità di un approccio terapeutico, riabilitativo ma anche un segnale magari di un'evoluzione di una malattia che va affrontata con cure differenti. Quindi è sicuramente un segnale importante. Quindi un'osservazione più profonda è necessaria proprio sulla base di dati sensibili. La sclerosi multipla è una malattia sicuramente cronica che coinvolge soprattutto le donne e soprattutto le donne in età fertile ma in che modo provoca effettivamente delle ripercussioni sul concreto proprio della vita personale di coppia e familiare? Beh per esempio sul discorso fertilità c'è stato uno stigma per molti anni per cui le donne affrontavano la genitorialità in maniera ridotta erano restie e c'era anche molta confusione in ambiente scientifico su questo argomento quindi sono state addirittura poco sostenute nella scelta della genitorialità nei decenni precedenti. Adesso invece non è più così. Stiamo assistendo a un aumento del tasso di fertilità cioè della procreazione da parte di donne con sclerosi multipla a cui non si accompagna una crescita demografica generale quindi si sta prendendo una forbice. Significa che le donne con sclerosi multipla finalmente sanno perché siamo più informati noi medici che la gravidanza può essere un fattore positivo per la malattia è un fattore protettivo per la malattia quindi noi sosteniamo la gravidanza la fertilità può essere impattata molto all'atere un po' da alcune terapie ma soprattutto dalle scelte che fanno le donne con sclerosi multipla quindi la genitorialità va sostenuta, va affrontata ed è probabilmente anche uno strumento di miglioramento del benessere della vita delle donne con sclerosi multipla. Ma secondo lei le donne sono sostenute dalla società quando sanno di essere colpite da una malattia così invalidante? Devo dire che le cose stanno cambiando ci sono dei percorsi per esempio ginecologici specifici abbiamo degli ambulatori per le gravidanze a rischio sebbene non siano gravidanze strettamente a rischio quelle delle donne con SM e abbiamo una stretta collaborazione con il gruppo dell'oncofertilità che si occupa di fertilità e pazienti che fanno terapie immunosoppressive e chemioterapiche importanti che si stanno prendendo carico anche delle nostre pazienti che appunto hanno delle terapie in corso che a volte sono incompatibili con la gravidanza ma ci stiamo rendendo conto che sono veramente pochi i farmaci che dobbiamo evitare in gravidanza quindi per fortuna stiamo vedendo molte più gravidanze e vanno a buon fine e le donne quindi riescono a superare questo problema e a porsi il problema invece di come comunicarlo ai figli questo è un altro aspetto di cui ci stiamo occupando attualmente Erroneamente spesso si associa alla malattia un'incapacità principalmente solo motoria e invece quale totalità appunto anche della sfera psichica della sfera poi fisica viene colpita? Per esempio è una malattia che colpisce la sfera sessuale abbiamo delle disfunzioni sessuali in ambito sclerosi multipla sia nelle donne che nei uomini di vario tipo anche secondarie alla percezione del proprio corpo per esempio e queste vanno affrontate perché sicuramente è un ruolo importante della sessualità non solo nella vita di coppia ma proprio nella autodeterminazione delle persone delle donne con sclerosi multipla poi sicuramente la sfera emotiva anzi le depressione sono più frequenti nelle persone con sclerosi multipla e come dicevamo gli aspetti cognitivi e soprattutto la fatigue questa sensazione di fatica centrale di spossatezza anche in quelle persone che non hanno una vera e propria disabilità motoria Ecco allora io insieme a lei voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento del 13 marzo che è un appuntamento fondamentale perché si terrà uno speciale open day sulla sclerosi multipla organizzato appunto sotto leggi da appunto fondazione onda osservatorio nazionale sulla salute della donna e delle donne appunto e di genere noi la ringraziamo per essere stata in nostra compagnia questa mattina mattina live quindi aspettiamo il 13 assolutamente sì ringraziamo ancora la professoressa Roberta Lanzillo professore associato di neurologia centro sclerosi multipla dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II io la omaggio anche di questa mimosa per la giornata internazionale dei diritti delle donne grazie grazie mille pubblicità a tra pochissimo mattina live grazie mille 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 grazie mille